se non l'avete capito l'ufo robot sono cartoni animati giapponesi certo che l'avete capito comunque dei cartoni animati giapponesi si sa molto poco si trascorre in un anzio missile con circuiti di mille valvoli tra le stelle scritta e va mangia libri di cibernetica insalate di matematica e a giocare su Marteva lui respira nell'aria cosmica è un miracolo di elettronica ma un cuore umano ha ma chi è ma chi è cura lo facci il naso di sempre volvoli è protetto da scuiter se ti nella lui ci fa quando schiaccia un pulsante magico lui diventa l'impergato che non lo sta per l'umanità ho bravo, ho bravo, ho bravo, ho bravo, ho bravo ma chi è non lo sta per l'umanità o lo sta per l'umanità lo stiamo tracksando per l'umanità vecchi anche i treni di calcio che ve la parliamo è dei multiplikla puede Perché bene tu sei, stai con noi Contro i mostri lanciati da Vega Vai, che il tuo cuore nessuno la piega E la razza umana non morirà Invincibile sei perché Atarus c'è Che combatte con te, dentro te Va, distruggi il male, va Alla porta a spaziole Va Lame rotanti Va Pioggia di fuoco Mille armi tu hai, non arrenderti mai Perché bene tu sei, stai con noi Contro i mostri Questa è la mia, non arrenderti mai Questa è la mia, non arrenderti mai Con noi Questa è la mia, non arrenderti mai 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 Grazie a tutti.